Si salutano militarmente e si stringono la mano in maniera molto energica. Il generale Pico e i suoi uomini vengono accompagnati dai soldati alleati verso un mezzo militare parcheggiato a poca distanza ed accompagnati al campo di prigionia. Nel frattempo il generale brasiliano si sposta nella stanza radio e impartisce ai suoi sottoposti l'ordine di trasmettere via radio a tutte le truppe alleate che le truppe tedesche e italiane si sono arrese. La guerra è finita! Grazie! 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 Grazie